Si crea secondo me un equilibrio che è assolutamente un buon equilibrio, si rafforza la stabilità dei governi e non vedo anche qui come questo potrebbe ledere le prerogative del capo dello Stato perché oggettivamente in Italia abbiamo avuto un problema di stabilità dei governi, abbiamo anche avuto un problema di governi che non rispondevano a nessuno, cioè che venivano smontati e rimontati all'interno del palazzo senza mai chiedere agli italiani che cosa ne pensassero, che non vuol dire semplicemente la persona, vuol dire il programma, cioè in tutta la scorsa legislatura sono stati realizzati programmi che non erano stati votati da nessuno. Mi si può dire in che cosa si sostanzia la democrazia rappresentativa, la democrazia rappresentativa si sostanzia nel voto per te perché tu possa fare questo in mia vece, ma se manca questo passaggio temo che ci sia un problema che noi abbiamo visto molte volte.